Un'eccezionale ripresa video di un raro esemplare di Londra al centro dell'incontro del WWF con le ricercatrici dell'Università di Molise Roma 3 Laura Lerone e Anna Loi, impegnate nello studio di questa specie rilevata nel 2007 nel bacino del sangro aventino. Un video importante non solo per la presenza del raro esemplare ma per il luogo in cui è stato girato, ovvero il fiume aventino, che risulta al rischio di una captazione a scopi idroelettrici che lo ridurrebbero ad un rigagnolo per chilometri. Il WWF, come testimonia il consigliere nazionale Dante Caserta, è riuscito a bloccare l'opera che aveva già ricevuto tutte le autorizzazioni. La scoperta di questa rarissima Londra indica che il territorio è da salvaguardare? Assolutamente sì. La Londra è considerata una specie ombrello, ovvero una specie che occupa una grande porzione del territorio e dell'ecosistema fluviale. Innanzitutto ricordiamoci che è una specie semiacquatica, è un carnivoro che caccia in acqua, si nutre di prede acquatiche, ma utilizza anche le rive. Utilizza le rive perché è un animale notturno e di giorno riposa in tane ricavate nella vegetazione lungo i fiumi. Quindi salvaguardare la Londra significa salvaguardare ampissime porzioni di questi bacini, non solo l'acqua ma anche l'intero ecosistema. Laura Lerone, dottoranda dell'Università Roma 3 e autrice del video sulla Londra che ha poi così alzato il bel polverone su questo bel evento e su questo animale così da salvaguardare. Sì, questo studio è iniziato nel 2010 per il mio dottorato e da allora stiamo monitorando il bacino del fiume Sangro alla ricerca della Londra. Due aspetti sono gli aspetti principali, quello della genetica non invasiva, ovvero campioniamo quelli che sono gli escrementi utilizzati dalla Londra per marcare il territorio e analizziamo questi escrementi alla ricerca del DNA di Londra che viene estratto e analizzato per darci una sorta di impronta digitale che permette di riconoscere le Londre individualmente e questo poi ci darà tutta una serie di informazioni utilizzabili per la conservazione della specie. Qual è stato faticoso ma altrettanto gratificante seguire la Londra e capire un po' come funziona tutto il suo sistema di vita? Faticoso molto a livello di ore passate lungo i fiumi ma anche il laboratorio per le analisi genetiche. Gratificante probabilmente lo è stato molto di più soprattutto nel momento in cui abbiamo ottenuto un filmato, abbiamo ottenuto i dati dal laboratorio dopo mesi di analisi e quindi decisamente gratificante.